Fratelli e sorelle biancoleri salve a tutti che dire di questo Morata ragazzi di questo Alvaro Morata sembra che il filo non si sia mai interrotto il legame, il legame più che altro il legame non si è mai interrotto sembra se ne sia andato l'altro giorno da Torino probabilmente è tornato anche più forte più maturo direi come dice Pirlo se ne è andato ragazzo da Torino è tornato uomo è tornato con prole, con famiglia e con tre figli insomma ragazzi sembra molto 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 migliorato io un mese fa vi dissi nei miei video che l'affetto per questo ragazzo andava oltre i suoi meriti calcistici che sono tanti, attenzione il mio affetto era grande per quella stagione indimenticabile che portò fino a Berlino praticamente quasi ogni partita timbrò cartellino lui con un gol in quella magica cavalcata fino a Berlino ma poi anche nella stagione successiva quando comunque giocò di meno causa l'acquisto di Mandzukic e di Bala che stava esplodendo riuscì comunque a timbrare il gol scudetto a Firenze riuscì a timbrare nella sua ultima gara con la Juve il gol ai supplementari che ci fece battere il Milan in finale di Coppa Italia insomma l'affetto smisurato per i suoi gol pesanti che non erano tantissimi ma erano pesanti ora ragazzi stanno diventando oltre ad essere pesanti anche tanti ma indipendentemente dai gol Morata è maturato proprio nel modo di giocare parte che galleggia sempre sul filo del fuorigioco cerca sempre di fottere il guardaline purtroppo molte volte non c'è riuscito per qualche millimetro però molte volte viene incontro alla palla fa salire la squadra è altruista dispensa assist gioca anche da tre quartista guardate l'imbucata che ha dato per Ronaldo si sono capiti in un secondo è venuto a prendersi la palla 20 metri dietro ha imbeccato Ronaldo segna, canta e porta la croce un giocatore a 360 gradi che mi fa veramente felice per l'affetto smisurato che vi ho detto tante volte che ho per questo ragazzo per quelle due annate che non posso dimenticare mi fa un immenso piacere questo coincide con la crisi di Dybala che non so se soffre di questa esplosione di questa esplosione di Morata probabilmente ci soffre psicologicamente non mi sembrava tanto felice quando Ronaldo ha timbrato il cartellino dopo neanche due minuti dal suo ingresso Dybala mi è sembrato abbastanza nervoso anche per il gol della Juve se vedete bene le inquadrature insomma un po' il contratto un po' questa situazione in questo momento ragazzi c'è poco da dire o migliora la condizione Dybala e comincia un po' a fare la punta ad andare un po' in profondità invece di venire sempre dietro e cercare palla allontanandosi dalla sua zona o comincia a svegliarsi ragazzi o in questo momento i titolari sono Ronaldo e Morata c'è poco da dire c'è poco 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 da dire con questo modo assolutamente Dybala poi in fascia non può giocare perciò in questo momento gli attaccanti sono loro il trequartista alle volte sarà Ramsey alle volte sarà Koluseschi alle volte si giocherà a tre centrocampo non lo so ma Dybala in questo momento non può giocare e ragazzi magari servirà a pungolarlo questa esplosione di Morata che ripeto mi fa felice perché è veramente 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 un bravo 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 ragazzo ora ragazzi basta con le smancerie un doveroso ricordo a un grandissimo che ci ha lasciato al grande mattatore Gigi Proietti che maestro assoluto del teatro dell'ironia l'ironia ha fatto l'ennesima mandragata lasciandoci il giorno del suo ottantesimo compleanno un colpo di classe che sanno fare solo i grandi maestro Gigi immenso maestro Gigi Proietti per tutti colosso colosso del cinema del teatro soprattutto del teatro italiano immenso 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 simbolo di Roma e di tutta l'Italia detto questo ragazzi un'ultima cosa prima di lasciarci vi volevo dire stasera sarò ospite del canale di Giampiero Morabito per chi non lo conoscesse segnatevi sto nome Giampiero Morabito grande juventino grande canale faremo crescere facciamo crescere sto canale doverosamente facciamo crescere sto canale perché è un ragazzo in gamba grande juventino e stasera ci facciamo una bella chiacchierata tutti insieme va bene ragazzi fino alla fine